E i vecchi mercati è grande, è grande, è grande, è grande Siamo a Piazza del Guomo, allo store Mondadori, dove oggi è cominciato il format Mondadori Off Sono queste interviste che faccio ormai da anni con grandi personaggi della cultura, dello sport e dello spettacolo italiano accompagnati dalla voce della chitarra di Daniele Stefani I nostri ospiti si raccontano come nel salotto di casa, come se stessero parlando con i propri amici e raccontano le aneddoti della propria carriera, la propria famiglia, gli amori, che cosa mangiano Una serata così incredibile non me l'aspettavo, ero venuto per presentare un romanzo fino alla fine a cui sono particolarmente legato e che consiglio a tutti quanti di acquistare, una storia di gioventù, amore, amicizia, acciaio e alla fine mi sono ritrovato a parlare della Santa Lazio, del rapporto con la patria, della RAI, della giovinezza, dell'amicizia ed è il mio piatto preferito, ma non è il mio piatto preferito, è il piatto che so cucinare meglio, ovvero spaghettone con gamberi e carciofi Il mio piatto preferito è lo spezzatino in bianco, ma so meglio quello di prima Grazie